Stefano Rodotà non ha bisogno di presentazioni. Per alcuni giorni è stato il candidato alla presidenza della Repubblica più inseguito, più benvoluto da politici, da giornalisti. La sua candidatura proposta da Grillo ha elettrizzato, ha rinnovato, vivacizzato il dibattito politico. La scelta di Grillo è stata azzeccata, persino in grado di spaccare il Partito Democratico. Bene, sono passati due mesi ed ecco come definisce Grillo la persona che egli aveva indicato alla guida della Repubblica, cioè Rodotà. Un ottuagenario miracolato dalla rete, sbrinato di fresco da un mausoleo. In appena due mesi, questo è il giudizio, come è cambiato? Guardate un po' come è cambiato il giudizio su Rodotà. Non sappiamo chi si sia degenerato di più in due mesi, se Stefano Rodotà oppure Beppe Grillo. Abbiamo il sospetto che un potentissimo morbo si stia quasi impadronendo dell'ex comico, lo stia portando al delirio di onnipotenza. Adesso offende tutti. Aveva cominciato con la Gabanelli, anche lei proposta, guarda caso, alla Presidenza della Repubblica. Poi se l'è presa con gli italiani che non l'hanno votato alle comunali. Adesso con Rodotà, Reo, di aver detto in una intervista che la rete da sola non basta a far vincere le elezioni. Guai, guai a chi lo tocca, guai a chi si permette di contraddirlo. Si tratti di Napolitano o di Rodotà? Questo non fa differenza. Il padre eterno è lui, Grillo. Il padre eterno, come è noto, ce n'è uno solo. Ecco in che guai ci siamo cacciati. La fretta, come si dice, fa i figli ciechi e gli italiani si sono lasciati convincere troppo in fretta dalle battute sarcastiche di Grillo, come se i problemi si risolvessero con l'ironia, con la feroce ironia. Il guai peggiore però non è Grillo. È chi crede ancora che l'Italia si possa salvare con lui.